Partiti. Non cambiano le posizioni quando i cavalli entrano in addirittura d'arrivo, con in vantaggio sempre Martin Breeze al suo esterno scale, poi Gray Harrow e Golden Forbes. Stiamo ai 350 metri conclusivi, con Martin Breeze attaccato da Gray Harrow per varchi scale, poi a seguire Golden Forbes, siamo a 100 dal traguardo, con Gray Harrow che passa di forza. Gray Harrow passa e stacca, Gray Harrow vince su scale, poi a seguire Martin Breeze, quindi Golden Forbes. Vince quindi Gray Harrow, Giuseppe Bologna, 2,37 la quota della porta colori del signor Mario Scalia, la figlia di Verglas dopo una serie di piazzamenti. Questa allieva di Melena Cascione ottiene il successo nella prima corsa dell'Arlock all'ipot del modello mediterraneo, quindi vince Gray Harrow, numero 2, su scale, numero 1, poi Martin Breeze, numero 4. Attendiamo l'ordine ufficiale, linea alla regia.